buongiorno da w tv news oggi 19 agosto è san giovanni eudes e della giornata mondiale della fotografia uno scatto che ferma tempo un click una volta fisico ora spesso virtuale per rendere eterno un singolo istante si celebra 19 agosto la giornata mondiale della fotografia una ricorrenza istituita nel 2010 dall'australidiano corp cara per rendere il giusto tributo a questo eccezionale strumento di comunicazione una data non casuale è il giorno in cui nel lontano 1839 il fisico francese françois arago presentò all'academia delle scienze e delle arti visive a parigi il degreutipo il primo procedimento fotografico per lo sviluppo di immagini